Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. La giustizia. Cari amici del Leone, periodo di regolarizzazioni, periodo di riequilibrio e per qualcuno, perché no, anche di tagli. Di solito quando c'è la giustizia c'è la necessità di riportare in equilibrio certi discorsi, certe situazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nullo, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email in caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link alle taropratiche del 2024. Bene, vi ricordo che queste sono letture generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, la coppia. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante, andrò via via a fare degli esempi per aiutarvi a adattare la lettura alla vostra realtà. Ok, allora partiamo con un asso di bastoni, un fante di spade, un 5 di pentacoli, un asso di spade, un 6 di pentacoli, un 8 di spade, cavaliere di bastoni e re di coppe. Ok. Ragazzi, abbiamo un asso di bastoni per partire. L'asso di bastoni è una carta di inizio, una carta di azione, è una carta che mi dice che qualcuno o ha iniziato con una nuova passione, può essere una passione tipo un hobby, oppure una passione potrebbe anche essere con qualcuno, perché no? Abbiamo poi anche questo fante di spade che potrebbe essere appunto la persona con la quale è iniziata questa passione, o potrebbe essere l'attitudine, se per esempio questo asso di bastoni riguardasse un progetto personale piuttosto che lavorativo. il fante di spade mi dice che siete come in via di studio, come in via di monitoraggio, ecco non mi veniva la parola esatta. Andiamo a vedere comunque carta per carta di che cosa si tratta, perché qui ho la sensazione che con queste due carte o c'è qualcuno che ha paura a dire qualcosa, o è come se ci fosse una paura, una confusione, mi verrebbe anche da dire, per quello che riguarda una situazione monetaria. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'asso di bastoni, abbiamo un dieci di coppe e un cinque di pentacoli di nuovo. Allora, per qualcuno sì che potrebbe essere una relazione con questo dieci di coppe. Si può parlare di qualche cosa che è completo. Datemi una carta per questo cinque di pentacoli, poi andiamo a vedere l'altro. due di bastoni. Allora, può essere che in questo progetto ci sia da investire parecchio, per esempio, perché ho due volte questo cinque di pentacoli e il due di bastoni che è una carta di indecisione, come se ci fosse una sorta di indecisione. Mi verrebbe da dire scusa lasciarsi indietro, scusa abbandonare, per raggiungere questo completamento. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo il papa e il mago. Allora, qui si tratta di una guida spirituale, ragazzi, che ripeto, le guide spirituali non sempre sono necessariamente una persona. Potrebbero anche essere dei libri, ipotesi. Però ho come la sensazione che qui ci sia come il bisogno di una terza persona per andare avanti in questo progetto. Tenete presente che anche qui avete un mago e quindi io sento che nella prima settimana di... Ma avete tanti assi, in effetti. Prima settimana di febbraio inizia... Oh sì, oh sì, inizia qualche cosa. Diciamo che in realtà avete tutte le potenzialità con la carta del mago per iniziare questo nuovo progetto. Però l'energia del fante di spade è un'energia che appunto tiene d'occhio, sta monitorando la situazione, perché è una di quelle energie piene di idee, piene di entusiasmo, anche mi verrebbe da dire, ma con scarso spirito pratico. Se per voi il fante di spade rappresenta una persona, queste potrebbero essere un po' le caratteristiche di questa persona. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Allora abbiamo un 9 di pentacoli e un 3 di spade. Che interessante! ragazzi, io qui ho l'idea che ci sia proprio la necessità di abbandonare qualche cosa dietro di voi, lasciarvi indietro qualche cosa. Mi viene da dire anche uscire un po' da una situazione stagnante. Probabilmente per quello che qua iniziate qualche cosa di nuovo, perché prima può essere che arriviate da questo 5 di pentacoli, da questa situazione un pochettino stagnante, un pochettino sofferente, un pochettino magari anche di dipendenza magari economica, magari pratica, nel senso nel pratico. Potrebbe essere una dipendenza affettiva, una dipendenza dal cibo. Ed è come se ci fosse il desiderio di abbandonare questa energia, questa, chiamiamola abitudine, chiamiamola dinamica di comportamento che vi fa rimanere un po' statici, un po' fermi. Andiamo a vedere l'asso di spade, a che cosa fa riferimento. Fante di spade, nuovamente 8 di spade. Ragazzi, è come se non riuscisse a tenere bene sotto controllo le cose, è come questa sensazione. Qualsiasi sia il progetto, che sia un progetto familiare, perché comunque qui abbiamo un 10 di coppe, per qualcuno può risuonare come un progetto familiare, dove magari c'è il bisogno di un mediatore, però è come se non si vedessero chiare le cose. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Perché il 6 di pentacoli, di nuovo, è una carta, è l'arcano minore della giustizia, quindi mi parla di nuovo di contratti. Anche il Papa è una carta di contratti, e quindi per qualcuno qui si tratta di una situazione lavorativa. Allora, abbiamo il re di bastoni, per spiegare il 6 di pentacoli. E la luna è uscita anche l'asso di bastoni, che avevate già qua all'inizio. Guardate ragazzi, il 6 di pentacoli vi dice che le cose, diciamo, succederanno in modo equilibrato. Io qui sento che potrebbe essere più la vostra paura, forse, che non una realtà, una reale, scusate, situazione di fermo. E' più una sensazione che la realtà. Ecco, mi viene a dire questa cosa qua. Perché comunque qua avete questo contratto, se si tratta di un contratto, può essere un contratto di compravendita o, ripeto, un contratto lavorativo, eh. Però qui avete, dove l'ho visto? Qua, due volte l'otto di spade. Avete un sacco di energie che si ripetono. Credo che qui sia l'attitudine mentale che avete, che vi manda un pochettino in confusione. Perché l'otto di spade è una di quelle carte che dice che, ehm, praticamente c'è la sensazione di non potersi muovere, di non poter fare diversamente, ma in realtà è solo a causa del modo in cui voi vedete la realtà. Andiamo a vedere, cioè nel senso, se avesse un altro tipo di visione della realtà, magari vi sentireste, eh, magari riuscireste a trovare altre soluzioni. Sento che, ehm, è come se aveste paura a fare qualcosa nella seconda settimana di marzo. Andiamo a vedere l'otto di spade. Otto di pentacoli e due di pentacoli. Ho capito. Ehm, quello che probabilmente vi preoccupa è il fatto che questo tipo di progetto potrebbe non essere sempre stabile. Potrebbe avere come degli alti e bassi. E quindi questo vi crea parecchie preoccupazioni. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni per piacere. Nove di coppe. Dieci di bastoni e cavaliere di pentacoli. Beh, beh, vi devo dire, ragazzi, non è poi così male la lettura, eh. Perché comunque è vero che magari andate un pochettino a tentoni nella seconda settimana di marzo, però è anche vero che con questo cavaliere di pentacoli l'invito è proprio quello, cioè di procedere con prudenza. Diciamo che ci sono delle responsabilità e dei pesi che lascerete indietro. Io sento che fa riferimento a questo 5 di pentacoli e questa indecisione del 2 di bastoni. Bene, ragazzi, allora, ci saranno comunque dei contratti o sì sì perché ho tre carte che mi parlano di contratti. Attenzione all'attitudine che avete perché è come se ci fosse qualche questione, qualche paura. A me viene da dire paura, un po' perché qua avete la luna, un po' perché qua c'è il 3 di spade, il 5 di pentacoli e due volte l'8 di... dove era l'altro qua? E due volte l'8 di spade è un'attitudine mentale che avete che vi sta un po' inquinando a livello energetico, ok? Perché in realtà le carte sono molto belle ma è il vostro modo di vedere la situazione che abbassa le energie, che abbassa la vibrazione, che vi fa rimanere in questa situazione del ma ce la farò o ce la faremo se è una questione familiare, ipotesi. Però ragazzi, piano piano, un passo alla volta, un passo per giorno, cercate piuttosto di alleggerirvi da certe responsabilità che magari non sono vostre. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Ragazzi, qui è come se... Allora, nessuna cosa è il sogno. Qui è come se volessero dirvi che avete questa lavagna, questo nuovo inizio, come se fosse una nuova, una lavagna nera, foglio bianco anche, dove potete scrivere voi che sogni volete realizzare, quali sono i vostri futuri sogni. Uh, ma che bello! È proprio come se fosse un invito a vedere le cose in modo più maturo, a vedere le cose in modo più... Cioè, come vi dico, noi siamo sempre focalizzati, noi umani intendo, siamo sempre focalizzati, perché è la tendenza che va per la maggiore, su quello che non si ha. Invece di focalizzarsi su quello che si ha o su quello che si è, si tende sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Invece qui vi dicono, ok, ripartite da capo, che sia una famiglia, che sia questo progetto con cui, che vi dicevo, che sia una relazione, potete scrivere voi il nuovo tipo di situazione, relazione o sogno che avete. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo, che sono, diciamo, pensieri o affermazioni positive da poter ripetere. Ne abbiamo ben due. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. Uh, ecco qua il vedere negativamente le cose. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. Eh sì, c'è confusione mentale inerente, un certo tipo di movimento che voi potreste fare. E poi abbiamo, cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura. Wow. Bellissima lettura, amici del leone. Spero che vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video, iscrivervi al canale. E se mi volete contattare per iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Ciao ciao.